Come vi chiamate? Antonio Giacarone Michele Lombardo Qual è la vostra job title? Sono un avvocato Avvocato Siete docenti di? Il subappalto Analisi e profili operativi Tre parole per descrivere il seminario Pratico, motivante e chiarificatore, speriamo Indispensabile, operativo, innovativo Sapete dirmi un motivo per cui partecipare? Per massimizzare l'efficacia nella gestione dei contratti in fase esecutiva E dei rapporti tra appaltatore, subappaltatore e stazione appaltante Perché il rapporto col subappaltatore non è solo un rapporto della fase esecutiva Ma è anche un rapporto che riguarda la fase di gara E quindi bisogna prestare molta attenzione Qual è la parte del programma che preferisci? Mi diverte molto cercare di chiarire bene E devo dire che spesso ci riesco Chiarire bene che cos'è subappalto da che cosa non è subappalto E questo è uno degli elementi spesso di confusione, di incertezza Il contrasto tra la normativa nazionale e le direttive dell'Unione Europea Soprattutto con riguardo ai limiti che il legislatore nazionale tenta sempre di imporre E il legislatore invece europeo ci ricorda che non vanno in posti limiti Saluta e invita i futuri partecipanti a iscriversi Ciao a tutti! Abbiamo selezionato tanti spunti operativi, pratici Per cui vi aspettiamo numerosi Sarà per voi utilissimo Partecipate perché il subappalto non sarà più un problema per voi Grande! Eh, ti è piaciuto? Sì, sì